Taglio del nastro a Pescara per i locali di Via Conte di Ruvo, che da oggi ospitano lo sportello ZES, messi a disposizione dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara. Un protocollo è stato sottoscritto dall'ente camerale e dal suo presidente Gennaro Strever con il commissario ZES Abruzzo Mauro Miccio, per il quale è utile un luogo fisico come questi locali per ottenere tutte le informazioni sulle ZES. Certamente, perché con la collaborazione con la Camera di Commercio Pescara Chieti, ancora una volta partner del mondo ZES, in particolare delle attività commissariali, ci mette a disposizione uno spazio per rispondere ai quesiti delle imprese che vogliono insediarsi nelle aree ZES. A che punto siamo come ZES in Abruzzo? Diciamo che le procedure sono state tutte espletate, abbiamo contemporaneamente la partenza con i fondi PNRR che sono pubblicamente arrivati. A quanto montano le ricerche? Per la zona ZES sono 63 milioni, che sono lavori infrastrutturali importanti nelle zone dell'Abruzzo, per quanto riguarda la provincia di Chieti, sicuramente i porti di Ortona e di Vasto, per quanto riguarda la provincia di Pescara, l'interporto d'Abruzzo e le infrastrutture per rendere più efficace ed efficiente l'attività di quell'interporto, che è quello connesso nel TNT alla porto di Ortona. Ma al di là di questo, poi abbiamo tutte le procedure, e sono state attivate e saranno pubblicate a breve, tutte le particelle catastali, la Regione ha questo compito, presso il Ministero della Coesione Territoriale, in cui le singole aree industriali identificate con quelle particelle consentiranno alle imprese di poter attivare il credo d'imposta, se sono soggetti elegibili, cioè se sono soggetti che sono in grado di gestire e di avere questo tipo di beneficio fiscale. Una collaborazione fruttuosa, ha detto il Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever. Un protocollo molto importante, perché cerchiamo di mettere a disposizione delle imprese del territorio la massima collaborazione del Commissario, e allo scopo abbiamo messo a disposizione dei locali per gli uffici ZES qui al piano terra, qui nella Camera. Per cui credo che è effettivamente un passo importante per portare a conoscenza, nel migliore dei modi, le opportunità che ci sono in questo periodo.